Ciao a tutti, oggi prepareremo la cioccolata fredda. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono panna fresca per dolci, cioccolato fondente e latte condensato. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Facciamolo sciogliere per 6 minuti, 50 gradi, velocità 3. Unire il latte condensato ed amalgamare per 40 secondi a velocità 3. aggiungere la panna ed azionare il bimbi per un minuto trasferire in dei bicchieri o in delle tazze e riporre in frigo per almeno 30 minuti prima di servire cioccolata fredda. Si conserva in frigo per due giorni. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!